Il cittadino è al centro, è un'operazione complicata perché l'individuo non è abituato dopo cento e rotti anni di malversazioni in un secolo dove per esempio l'energia era proprietaria dove c'è stato l'usegetta come modello di vita, non è abituato a condividere e a mettersi a disposizione in maniera attiva nella sua stessa vita.